Due latitanti arrestati dai carabinieri di Chieti si vanno ad aggiungere agli arresti effettuati per l'operazione Conventus, quella che ha portato alla luce un'associazione criminale trasnazionale che ha coinvolto criminali di nazionalità marocchina, spagnola, italiana e albanese in un traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e sfruttamento della prostituzione. Mancavano degli indagati all'appello e quindi delle persone colpite da misure restrittive e sono state individuate all'estero e ovviamente al loro ritorno in Italia credevano di farla franca ma al porto di Brindisi, al porto di Ancona, li abbiamo aspettati e li abbiamo tratti in arresto. Una donna è stata portata agli arresti domiciliari mentre un uomo è stato portato in carcere, era abbastanza importante come indagato, era uno di quei destinatari del reato di crimine organizzato trasnazionale. Ad essere arrestati un uomo di nazionalità albanese di 30 anni e una donna della stessa nazionalità di 23 anni che all'epoca della maxi operazione erano riusciti a superare i confini nazionali. In particolare Chieti è una provincia di passaggio ed era un gruppo criminale attestatosi nel nord dell'Abruzzo al confine con le Marche spacciavano, gestivano anzi ingentissime quantità di sostanze superfacenti provenienti dall'Albania, quasi tutti gli indagati sono albanesi ed era addirittura una famiglia residente nelle Marche che gestiva tutto questo grande traffico. E' stata data un bel segnale all'epoca e comunque questo è stato testimoniare che le indagini continuano e l'osservazione sul territorio continua.